il 17 settembre si parlava tanto del tuo tesseramento purtroppo abbiamo dovuto attendere un mese e mezzo per avere questa ufficialità hai avuto paura che poi alla fine tutto non quadrasse e ci arrivasse poi questo transfer la decisione è stata rapida non ho avuto mai dubbi di venire qua il direttore sportivo giudice ti ha voluto fortemente fra l'altro ha utilizzato anche un piccolo scamotaggio qui per farti arrivare ti ha detto che la USA giocava in una categoria superiore hai avuto poi modo di vedere il pubblico di Castellanaro soprattutto anche la squadra questo ha potuto incidere sulla tua scelta di rimanere qui lo giudice vuole dire che tu veni qui qual è la tua impressione sui supportori di questa nuova squadra? io credo che le defense sono molto emozioni e credo che questo è tipico per il sud dell'Italia quindi non sono sorpreso ma credo che le defense sono molto bene i sostenitori è abbastanza chiaro quello dei sostenitori sono comunque calorosi ma non è una piazza del sud lui non è assolutamente sorpreso di tutta questa euforia che c'è per il suo trasferimento il ruolo tuo è difensore centrale di destra riesci anche a giocare in qualche altro ruolo o è solo quello quello che riesci a fare? qual è il tuo favorito posizione? sei la strada della cattiva, ma ti preferi toccare stradz101 o al strada di conto in defensa con tre Denton o con quattro? sempre giochto in questo sistema con quattro fronte sui centrali non ho giochato con quattro fronte quindi non diecvii stradzioni stati non vedo le principali del sistema ma nel sistema con quattro difendori ho perduto tre o quattro anni e ho sempre giocato a destra, quindi penso che posso giocare a destra o a destra per me non è una differenza se è possibile un tuo impiego dal primo minuto nelle prossime gare ti senti pronto oppure hai bisogno ancora di alto tempo Siamo qui probabilmente due mesi e nel secondo training mi sono ingerito quindi ho avuto un piccolo problema con il mio piede lefto ma per sicuramente non è una situazione non è una situazione optimale perché la scuola è stata lunga e ora ho allenato per tre sessioni quindi ho cominciato a lavorare con la squadra e non è facile per me perché non ho saputo l'italiano scuola quindi ho bisogno di imparare molti cose sul pietro prima di venire qua ho avuto un piccolo problema all'adduttore se non sbaglio adesso è qui da circa due mesi ma un paio di settimane fa ho avuto un problema al piede sinistro e adesso sta recuperando la condizione non è ottimale però si augura di recuperare quanto prima e di scendere in campo un messaggio anche in chiusura verso i tifosi della USTAB che stanno dimostrando già dall'anno scorso ma solo diverso tempo l'attaccamento ai propri colori alla USTAB che cosa ti senti di dire a loro? se ti senti di dire a loro se ti senti di dire a loro se ti senti di fare a giocare con i vostri nostri amici? solo spero che ci sottolineino così bene come negli ultimi mesi perché credo che negli ultimi 15-20 minuti negli ultimi mesi negli ultimi mesi negli Forgia era fantastico è stata una grande audizione e spero che ci sottolineino in questa pratica si augura comunque che i tifosi li sostengano come hanno sempre fatto ma soprattutto come hanno fatto negli ultimi 25 minuti contro il Forgia che sono stati assolutamente incomiabili